La Chiesa è solo un'istituzione terrena oppure una realtà che abbraccia il cielo e la terra? Oggi parleremo della Chiesa trionfante, formata dai Santi Angeli e dai Beati in cielo, che insieme costituiscono una vera e propria societas. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco, benvenuto nel canale, gli angeli sono con noi. Ben trovati cari amici e auguri a ciascuno di voi di una santa festa di San Giuseppe Artigiano. Nell'ultimo video di alcuni giorni fa diversi di voi mi hanno chiesto come fare ad iscriversi al gruppo Apostoli dei Santi Angeli se non si possiede una carta di credito o un conto PayPal. Vi risponderò qui perché ho visto che a volte vi sfuggono le risposte che do direttamente nei commenti. Se non hai un account PayPal o una carta di credito puoi iscriverti tramite bonifico bancario o anche CCP. Trovi tutte le info del caso in descrizione o nel primo commento in evidenza. Decidi la cifra mensile con la quale sostenere il canale gli angeli sono con noi scegliendola tra le quattro elencate nella pagina dedicata. Trovi il link a questa pagina sempre in descrizione o nel primo commento e poi effettua la tua donazione ricorrente con una delle due modalità sopra indicate. Tutto qui, nulla di più semplice. E adesso andiamo al nostro tema di oggi senza perderci in altre interruzioni. Come saprai la Chiesa non è solo un'istituzione terrena ma una realtà ben più ampia e grandiosa che abbraccia il cielo e la terra. È composta infatti da tre stati distinti ma strettamente uniti. La Chiesa trionfante, composta dai beati e dagli angeli in paradiso. La Chiesa militante, formata dai fedeli che combattono il buon combattimento sulla terra. E la Chiesa purgante, dove le anime sante dei defunti si purificano in attesa di entrare nella gloria eterna. Il libro dell'Apocalisse ci offre a questo riguardo uno scorcio muzzafiato della Gerusalemme celeste, la città santa che discende dal cielo risplendente della gloria di Dio, come ci dice l'Apocalisse. Sant'Agostino la descrive come una città sotto un solo re, dove regna un'armonia perfetta e ogni essere canta incessantemente le lodi del creatore. Immagina strade d'oro, mura di diasporo, porte di perle e fondamenta di pietre perziose. Immagina una luce che supera il sole di milioni di volte e un fiume d'acqua viva limpida come cristallo. È un albero che dona frutti generosi ogni mese. Così è almeno come viene simbolicamente descritta dal veggente di Patmos, San Giovanni Apostolo. È in questo luogo di sublime bellezza, ci dice Sant'Agostino, che saremo con cittadini degli angeli, condividendo con loro la lode e la gloria di Dio e vivendo insieme in una conversazione eterna di amore e di gioia. Per capire però meglio il pensiero del vescovo di Ippona, vediamo cosa ci dice padre Emilien Lamiran, degli Oblati di Maria, che fu uno specialista del pensiero agostiniano. Questo insigne studioso ci spiega che il consorzio, la compagnia degli angeli, non è solo una realtà futura, ma si realizza già nella chiesa militante, quella alla quale in questo momento apparteniamo tu ed io. Dice così, quando ancora oggi la liturgia ci fa implorare il consorzium angeloru, la compagnia degli angeli, che cosa si deve intendere di preciso? Sant'Agostino ci dà molte spiegazioni. Per lui la qualità di essere concittadino degli angeli si riferisce alla nostra condizione attuale così come alla nostra condizione futura. Ma l'espressione società degli angeli o società angelica si riferisce esclusivamente alla risurrezione, quando saremo effettivamente chiamati a vivere in compagnia dei santi angeli dopo aver vinto sui loro avversari, i demoni. La società degli angeli, continua padre Lamirand, è uno dei principali oggetti delle promesse divine, e questa è un'affermazione notevole. Il fine della nostra speranza non è infatti una ricompensa puramente individuale, ma una ricompensa da ricevere nella società dei santi, non solo dei uomini, ma anche degli angeli, affinché Dio sia tutto in tutti. La società angelica esprime quindi da un lato il carattere sociale della beatitudine e l'unione che ci sarà nella Gerusalemme celeste tra gli angeli e beati nella partecipazione del Sommo Dio. Questo carattere sociale della felicità della Chiesa celeste è continuamente sottolineato dal Vescovo di Pona nelle sue opere. L'unità nella fede, l'unità nella speranza, l'unità nell'attesa, presuppongono l'unità nella patria, sottolinea padre Lamirand. E continua. La felicità propria della Chiesa del Cielo non è dunque costituita semplicemente dalla giusta posizione o dall'aggiunta di destini personali. Se la visione e il possesso di Dio consistono evidentemente prima di tutto in una relazione tra persone, questa relazione è inserita nel contesto di un'autentica comunità. Infatti il vero amore è caratterizzato dall'altruismo. La beatitudine della Chiesa celeste non è perciò un mero premio individualistico, ma una gioia condivisa all'interno di una comunità. Tanto che Sant'Agostino afferma avremo uno spettacolo comune in Dio, un possesso comune dello stesso Dio, una pace comune in Dio. L'amore che regna nella Gerusalemme celeste è dunque un amore altruistico, orientato verso il bene comune e la glorificazione di Dio. Non c'è invidia né competizione, ma solo il desiderio di gioire insieme della presenza divina e di contribuire alla felicità degli altri. Ora, un altro aspetto della Chiesa trionfante è che occuperemo i posti lasciati liberi dagli angeli prevaricatori trasformati in demoni. Il principe degli angeli può essere caduto con i suoi compagni, scrive Sant'Agostino, ma verranno uomini che prenderanno il posto di quelli che sono caduti. Perciò gli eletti prenderanno parte ai vari cori angelici, poiché gli angeli caduti, di cui prenderanno il posto appartenevano a tutti e nove i cori. Immagina adesso, per un istante, di prendere il posto di un sarafino, l'angelo più alto in gerarchia, e di unirti ai cori angelici per cantare le lodi di Dio con una voce potente e melodiosa, o di conversare con gli spiriti celesti dei diversi cori e di imparare da loro la sapienza divina e di unirti ai loro canti celestiali. Questa visione non solo sottolinea la grandezza della nostra vocazione, ma ci ricorda anche la battaglia spirituale in corso, qui sulla Terra, tra il bene e il male. La nostra vita è infatti un'occasione per combattere già ora al fianco degli angeli buoni e resistere alle tentazioni dei demoni, preparandoci così a godere della vittoria eterna della Gerusalemme celeste. Questa partecipazione degli uomini ai cori angelici è affermata anche da altri padri della Chiesa. San Girolamo, ad esempio, parla della dolcezza della società degli eletti e dei loro legami non meno intimi con i cori degli angeli. E San Cirillo di Alessandria afferma che ci mescoleremo ai cori angelici. La nostra vita sulla Terra è quindi un pellegrinaggio verso la Gerusalemme eterna. Essa è la nostra vera patria, alla quale dobbiamo anelare con tutte le nostre forze. Se questo video ti ha ispirato, iscriviti al canale Gli Angeli Sono Con Noi e attiva la campanella per non perderti le prossime puntate. E ricordati di condividere questo messaggio con i tuoi amici. Insieme possiamo crescere nella fede e prepararci per la vita eterna. Come sempre chiedo e prometto preghiere. Se il Signore vuole, ci vediamo sabato. Che Dio ti benedica.